E rabbia e solidarietà viene espressa anche dal sindacato dei Vigili del Fuoco USB nelle parole del coordinatore regionale Carnero Barbagallo. Ad ottobre sicuramente non si può morire però incendi di vasta entità che a nostro parere sicuramente non sono naturali. A nome del coordinamento nazionale e regionale USB Vigili del Fuoco e spieghiamo il nostro massimo cordoglio per quello che è accaduto ieri nel territorio di Lingua Glossa, sappiamo sicuramente che questi piloti sono piloti con alta professionalità così come di alta professionalità sicuramente sono i DOS sia dei Vigili del Fuoco che della forestale. Come USB Vigili del Fuoco sicuramente non possiamo accettare altri morti sul lavoro, ci auspichiamo sicuramente che si possano ritrovare ancora in vita questi due piloti però ovviamente più passano le ore più questo diventa vano.